Buon pomeriggio e Cos'è stato sorteggiato dal Corecom, il Comitato regionale di controllo sulle comunicazioni, abbiamo ospite Roberta Lombardi, candidata del Movimento 5 Stelle. Buon pomeriggio e benvenuta, così come do il benvenuto anche a Giorgio Saba, vice direttore del Tg3. Prima di tutto presentiamo brevemente Roberta Lombardi, è nata a Orbetello, ma è residente a Roma, ha due figli, si è laureata in giurisprudenza alla Sapienza di Roma, Ma pensava di fare l'avvocato o cosa immaginava per il suo futuro? Pensavo di fare una facoltà che mi aprisse quante più strade possibile, perché a 18-19 anni quando devi scegliere quello che sarà il tuo futuro, ovviamente non sempre si hanno le idee chiarissime, però volevo fare una facoltà che mi desse la possibilità dopo di scegliere la mia strada con calma. Fa parte del Movimento 5 Stelle fin dalla sua fondazione, cosa ha la spinta ad avvicinarsi al Movimento? Il fatto che un giorno ho capito che seppure io non mi interessavo di politica come non mi interessavo prima di entrare all'interno del Movimento, la politica si interessava di me, dei miei diritti, del mio futuro. E quindi ho conosciuto attraverso il blog di Beppe Grillo questi gruppi di cittadini che parlavano di argomenti che erano fuori dall'informazione tradizionale e quindi in curiosità mi sono avvicinata e ho visto che effettivamente l'impegno personale di ogni singolo cittadino può fare la differenza. E quindi da lì è partito questa avventura. A questo proposito, è un parlamentare di lungo corso, l'abbiamo visto, no? Se ci dovesse dire in poco come è cambiato, perché è cambiato certamente il Movimento 5 Stelle, c'è avuto anche tante novità, la presenza di Grillo, adesso un candidato premier come Di Maio. Dal suo punto di vista, cos'è che non c'è più e è un bene, cosa invece c'è di nuovo? Beh, il fatto che siamo cambiati era nella natura stessa delle cose, perché eravamo dei gruppi di cittadini che facevano un movimento d'opinione, poi abbiamo capito che non bastava fare fiato sul collo ai nostri politici per cercare di fargli fare qualcosa che avesse una valenza politica per noi cittadini e che avesse anche un senso dell'etica nella gestione della cosa pubblica. E quindi da quel movimento d'opinione siamo entrati all'interno delle istituzioni e abbiamo visto che con l'impegno, l'attenzione e lo studio, Siria è anche un cittadino che non ha una formazione da scuola di partito, riesce ad applicare il buon senso nella gestione delle cose come fa poi il buon padre di famiglia. Quindi da quel punto di vista siamo notevolmente cambiati, proprio da movimento di opinione a forza politica. Siamo cambiati, ma nel senso anche che siamo maturati, perché poi siamo un movimento giovane, quindi è come un po' l'età evolutiva di qualunque essere umano. Una cosa un po' più cattiva, ma il presidente della regione, se lei dovesse diventarlo, è praticamente più importante del leader di partito. In Italia ha sicuramente un peso maggiore, una responsabilità di qualche tipo. Io, se diventerò presidente di regione, avrò la responsabilità di governare bene finalmente questa regione, perché l'alternanza centrodestra-centrosinistra, che è stata questa alternanza nefasta, ci ha portato alla situazione in cui siamo adesso, con una sanità pubblica ormai ridotta a lumicino, con l'impossibilità per le persone di curarsi in tempi ragionevoli vicino a casa loro, con un'economia ferma, con un turismo al palo rispetto alle... Adesso questi punti li affronteremo uno a uno, ma perché ha deciso di lasciare il Parlamento proprio per la regione? Perché io in questi cinque anni di attività parlamentare ho comunque seguito molte tematiche proprio strettamente connesse al territorio di Roma e del Lazio, e quindi poiché noi abbiamo la regola dei due mandati, e questo che inizierà, insomma, prossimamente sarà il mio secondo e ultimo mandato, volevo impegnarmi in una dimensione che fosse più in linea con quello che avevo fatto finora, e quindi mi sembrava più utile magari andare a impegnarmi sul territorio, piuttosto che rimanere in un palazzo che in questi anni purtroppo, nonostante noi crediamo tantissimo nell'importanza delle istituzioni, dobbiamo anche avere la consapevolezza e l'amarezza di dire che si è comunque svuotato dalla sua funzione di incontro, punto di incontro di quelle che sono visioni diverse, legittime, da parte di varie forze politiche, su quello che è il futuro del Paese. E' diventato un posto dove si vanno a ratificare decisioni prese su altri tavoli, e magari a volte questi tavoli non sono neanche in Italia, ma in altre capitali europee, e quindi questa è la motivazione. Brevissimo, non pensa che però in questa analisi dovrebbe anche inserire un pochino il fatto che, se pesa il fatto che il Movimento 5 Stelle comunque, e l'ha ribadito ancora in questa campagna elettorale, ha detto niente alleanze, niente intese, cioè a un certo punto può diventare anche un limite questo il fatto di voler stare sempre da soli. Io lo vedo come un nostro punto di forza, perché non abbiamo degli interlocutori credibili. Abbiamo chiesto un impegno agli altri partiti su quelli che sono dei punti di programma, che per noi sono importanti. Il primo è stato quello che ha lanciato Luigi Di Maio per il nazionale e io per il regionale, che è un impegno sull'autoriduzione degli stipendi, che sicuramente sappiamo non è la manovra economica che risolleva il paese e il debito pubblico in cui ci hanno piombato quelli bravi e competenti, però innanzitutto è un simbolo, perché stai facendo vedere alle persone che la gente che ti governa o leggifera per te non è staccata e avulsa da quella realtà la cui azione politica poi va a condizionare. E poi perché comunque non risolverà i problemi del debito pubblico, ma sono bei soldini. Noi abbiamo fatto il conto, solo in Regione Lazio, tra il taglio dei vitalizi, l'abbattimento degli stipendi, il taglio delle consulenze, sono 200 milioni di euro in 5 anni di consigliatura. Quindi insomma parliamo di parecchi macchinari che possono essere messi a disposizione della sanità, parecchie assunzioni da fare. Però se aveste fatto alleanze con qualcuno, forse questa solitudine avrebbe potuto portare anche a delle decisioni con maggioranza. Ecco questo volevo dire, c'è una posizione in cui o vincete da soli o comunque... O vinciamo da soli. O vincete da soli o vincete da soli. Ha parlato di sanità, lei circa un mese fa ha presentato il programma e uno dei punti, se non il punto principale, è proprio quello della sanità. Tra queste la priorità è l'abbattimento delle liste di attesa. Come pensate di farlo? Abbiamo un programma in 5 punti molto precisi e puntuali per l'abbattimento delle liste d'attesa. Tra l'altro fra qualche giorno presenterò proprio il provvedimento in modo quello e altri due provvedimenti relativi alla sanità che sono il progetto di ricostituzione della rete territoriale, dell'assistenza quindi territoriale e la riorganizzazione della rete dell'emergenza, quindi 118 punti per pronto soccorso, primo soccorso e pronto intervento. Sulle liste d'attesa noi abbiamo individuato i 5 punti fondamentali. Il primo punto è andare a fissare e monitorare quella che si chiama la prestazione istituzionale ovvero dire quante prestazioni, visite specialistiche o prestazioni diagnostiche debbano essere effettuate da un determinato professionista che utilizza un determinato macchinario in regime di sanità pubblica, andare a fissare questo parametro anche avvalendoci ovviamente dei strumenti di partecipazione degli ordini professionali e andare a controllare che effettivamente... E secondo lei adesso si perde tempo? Perché in questo momento innanzitutto c'è una difficoltà per le persone, per gli operatori a poter essere messi in condizioni di lavorare anche per un discorso di copertura dei turni. Noi veniamo da un periodo di blocco del turnover che ha portato a una contrazione del personale medico, infermieristico, operatori sociosanitari e ausiliari drammatico. Quindi bisogna nella riprogettazione dei servizi sanitari, il regime di sanità pubblica, vedere quelle che sono le esigenze epidemiologiche della popolazione, quindi capire che determinati tipi di patologie sono presenti in un determinato tipo di territorio e andare a offrire servizi di assistenza sanitaria ovviamente che vadano mirati incontro a chi soffre di quelle patologie. Quindi andare a fare un rafforzamento di quei reparti, andare ad ottimizzare la distribuzione delle risorse umane. Dopodiché, e questo è il primo punto, quindi fissare la prestazione istituzionale e controllare che questo limite che è stato messo venga rispettato. Dopodiché bisogna intervenire su quella che è la prestazione in intramenia, quindi l'istituzione privata all'interno dei locali pubblici, degli istituti o dei reparti della sanità pubblica. Questa per legge deve essere in pari numero, l'attività in intramenia deve essere al massimo pari con quella che è l'attività, la stessa attività che viene offerta al regime di sanità pubblica. Quindi se un medico ecografista effettua 10 prestazioni in regime di sanità pubblica non ne può fare 15 regime di intramenia. E questo è il secondo punto. Terzo punto, apertura di tutte le agende degli accreditati pubblici e privati. Quindi non può più esistere quella situazione che capita spesso quando si chiama il recup in cui si dice vorrei prenotare la prestazione, la lista è chiusa. La lista è chiusa oppure non abbiamo l'agenda. No, se hai un accreditamento, quindi se la regione riconosce attraverso l'ASL che tu devi svolgere una prestazione non è possibile che quella prestazione non venga messa a disposizione dei cittadini. Quarto punto, il divieto di intramenia allargata. Per effettuare i controlli che dicevamo prima, l'intramenia deve essere nei locali pubblici. Non posso appoggiarmi io medico presso uno studio privato perché non mi dè di possibile il controllo a me che sono l'organo di vigilanza pubblico. Quinto punto, bilanci trasparenti e separati tra l'attività intramenia rispetto a quella dell'attività istituzionale. Senta, onorevole Lombardi, proprio su questa cosa della sanità, la posizione di Zingaretti, siccome chiaramente anche loro hanno l'interesse a ridurre le liste d'attesa, come per tutti l'obiettivo è ridurre le liste d'attesa, migliorare la qualità del servizio. La proposta che avevamo fatto era quella di affidare ai medici la possibilità di graduare le analisi, cioè non di cambiare il meccanismo di richiesta e di prenotazione, fino a dire elimineremo il CUP. Secondo lei è ragionevole, è possibile, visto anche che comunque il lavoro fatto in questi anni, almeno il miglioramento di lei ha bisogno segnalargli, è stato fatto nel Lazio. Siamo ancora a dei livelli molto bassi, ma in ogni caso bisogna vedere anche come si misurano i LEA e quali prestazioni metti all'interno. Noi abbiamo assistito a marzo del 2017 una conferenza stampa del Presidente uscente della Regione Lazio in cui dava la sua ricetta per andare, tra cui anche questa graduazione dell'urgenza rispetto a una certa prestazione affidata a quelli che sono i medici di famiglia. Con la promessa e l'impegno da parte del Presidente uscente in 90 giorni di abbattere drasticamente le liste d'attesa. Ora di giorni ne sono passate quasi 365 perché siamo a febbraio del 2018. La situazione è ancora drammatica, anzi è anche peggiorata. Faccio un esempio, ogni anno tra i 10 e i 15 mila cittadini laziali sono costretti ad andare in altre regioni perché nel Lazio i tempi d'attesa per l'utilizzo della PET, che è un macchinario che serve per i malati oncologici, ha una lista d'attesa di più di 12 mesi. Non mi dica che non c'è un'urgenza su andare ad effettuare un certo tipo. Il medico effettuerà tutte le segnalazioni relative e immaginabili relative all'urgenza di determinati tipi di prestazioni, ma ahimè non esistono i macchinari. Un macchinario che tra l'altro costa, ogni macchinario tra costo diretto e il costo indiretto del personale, 2 milioni e mezzo di euro l'anno. Pensi con quei 200 milioni che le dicevo prima di tagli dei costi della politica, quante macchinari potremmo andare a prendere? E quindi veniamo un attimo al quadro più ampio. La tesi di Zingaretti è che stiamo riducendo il deficit, con quello che noi via via guadagniamo miglioreremo le prestazioni e porta a segnale questo piccolo miglioramento, il miglioramento dei LEA comunque e la riduzione, l'uscita dal commissariamento per la sanità. Quindi la sua idea è che la strada intrapresa è sbagliata. Questo è il... Allora, le do due dati. Il primo è perché diciamo che è una finta... Cioè sul risanamento bisogna continuare ad andare avanti comunque, credo. Allora, perché le dico che è una finta uscita dal commissariamento? Primo perché nonostante in questi 5 anni ci sia stata una progressiva diminuzione dell'erogazione di servizi sul territorio perché hanno chiuso, hanno tagliato posti letto, hanno tagliato presidi ospedalieri o presidi ambulatoriali sul territorio, hanno tagliato, ha tagliato il presidente uscente ore di assistenza domiciliare. Noi abbiamo una spesa sanitaria crescente. Perché? Perché tra l'altro ci siamo spostati da un regime di sanità pubblica dove le prestazioni erano erogate per il 65% dal pubblico e il 35% dal privato convenzionato a un regime dove il privato convenzionato attualmente dopo 5 anni di giunta a Zingaretti, e questi sono dati della Nao Assomed, che è la più rappresentativa associazione di medici ospedalieri italiani, ci fotografano uno spostamento verso la sanità privata del 55% delle prestazioni contro il residuo 45% del pubblico. La sanità privata convenzionata costa, costa spesso e volentieri in base a tariffe che non sono neanche adeguate rispetto a quelli che sono i costi effettivi di un certo tipo di prestazione che si avrebbe se un privato cittadino la effettuasse in un centro privato pagando di tasca sua. Quindi questa non è un'operazione di controllo della spesa, questa è un'operazione di spostamento di risorse andando a tagliare l'offerta sanitaria sul territorio. E c'è un'altra cosa che le dico, per arrivare alla finta uscita dal commissariamento il presidente uscente ha detto, o meglio a seguito della finta uscita del commissario Vabbè finta ci sarà alla fine dell'anno, ci sarà veramente, cioè finta fino a un certo punto. Sono pronta ad accettare scommesse su questo punto di vista. Cioè praticamente una conseguenza di questo è stata l'annuncio dell'abbassamento delle eliquote regionali, le addizionali all'IRPEF per le persone fisiche e l'addizionale all'IRAP per le attività produttive. E questo va detto nel Lazio, è una delle più altre itali. Perché c'è il commissariamento e questo va detto. Allora peccato che l'abbassamento è stato annunciato a gennaio per la campagna elettorale nelle buste paga dei dipendenti le eliquote ancora sono quelle e va bene. Ma soprattutto che cosa è successo? Che siccome si sapeva che la situazione dei conti non era rosea ma serviva a annunciare la finta uscita del commissariamento, il presidente uscente non ha approvato il bilancio previsionale del 2018 che conta ovviamente anche sulle entrate derivanti da queste aliquote regionali. E' andato in esercizio provvisorio. Noi attualmente abbiamo un bilancio regionale che non esiste per la regione Lazio e nessuno tra l'altro dice quindi io colgo l'occasione anche per dire ai miei concittadini siamo in esercizio provvisorio e quindi ci lascia una situazione. Perché è in esercizio provvisorio? Perché sapeva che non avrebbe potuto fare quel finta abbassamento delle aliquote che era figlio della finta uscita dal commissariamento. Allora ricordiamo per chi ci sta ascoltando sulle frequenze del radio che sta parlando la candidata presidente della regione Lazio Roberta Lombardi candidata per il Movimento 5 Stelle che è in studio con noi anche Giorgio Saba vice direttore del Tg3. Stiamo parlando di conti, parliamo anche di economia. Lei sta facendo un grande tour in giro per le province. Che gente sta incontrando? Le più svariate persone dalle più svariate provenienze sia politiche che sociali che lavorative. perché un unico comune denominatore tra tutte queste persone è il fatto che siamo in una regione bloccata ormai da anni. Gli indicatori economici di questi ultimi anni sono peggiorati. negli ultimi sette anni, quindi due governi di centrodestra e cinque anni, due anni di governo di centrodestra della regione e cinque anni di governo di centrosinistra hanno portato a un peggioramento, a un aumento del tasso di disoccupazione giovanile di quasi otto punti dal 33 al 41%. Quindi per i giovani cosa pensa di fare? Per i giovani noi abbiamo innanzitutto una serie di incentivi, innanzitutto sul diritto allo studio ovviamente, una serie di incentivi anche fiscali per chi apre una start up e per chi apre start up legata al settore dell'innovazione. Abbiamo il progetto del reddito di cittadinanza che per i giovani dà la possibilità di cercarsi un lavoro che sia confacente, non il primo lavoro, sotto 180 euro nette mese a persona con degli effetti... Indefinito, per un tempo indefinito? No, per un tempo indefinito, perché la persona nel frattempo deve fare delle attività che sono legate alla propria formazione personale per poter godere del reddito di cittadinanza. Deve fare anche dei colloqui, quindi deve formarsi, deve prestare per otto ore a settimana un'attività di utilità sociale per il proprio comune e deve fare anche colloqui di lavoro. Quindi deve dimostrare che sta cercando lavoro. Una volta che rifiuta senza motivazione tre colloqui di lavoro consecutivamente decade dal beneficio, quindi noi diamo la possibilità alle persone, ai giovani in questo caso, di potersi affacciare sul mondo del lavoro andando anche a scegliere e non prendere il primo lavoro perché qualunque esso sia, e nel momento in cui loro vengono espulsi per un mercato del lavoro che cambia molto velocemente, hanno la possibilità di potersi riqualificare e rientrare nel mercato che li ha provvisoriamente espulsi. Si è perso il lavoro, diciamo una fascia di età su 50 anni, cosa propone? Il reddito di cittadinanza, perché è uno strumento, noi lo abbiamo inteso, non è uno strumento di assistenziale, come spesso ci hanno detto. Il fattore vero del reddito di cittadinanza è che è una manovra economica, perché se le persone hanno una tranquillità economica, soprattutto in un momento di grande frammentazione della contrattualistica lavorativa e anche di grande precarietà, di avere un paracadute nel momento in cui sono di transizione tra un lavoro e l'altro, continueranno a rivolgersi al mercato interno chiedendo beni e servizi, perché hanno la sicurezza che anche nel momento in cui perdono il lavoro comunque avranno un reddito di sostentamento. Chiedendo beni e servizi tu tieni ovviamente viva l'economia, l'economia interna e quindi le aziende continueranno a produrre beni e servizi e continueranno a mantenere alto il livello occupazionale, quindi chi magari ha perso il lavoro perché c'è un mercato del lavoro che si trasforma, nello stesso tempo troverà in tempi brevi un'altra occupazione proprio perché c'è una domanda interna stabile e anche crescente perché si è innesta una spirale positiva, sempre più persone hanno il reddito, sempre più persone manterranno alti consumi, sempre più aziende rimarranno aperte, assumeranno, sempre più persone verranno tolte dal reddito, si alzeranno ancora i consumi perché il reddito medio sarà più alto dei 780 euro che l'Istat individua come limite sotto cui si entra nella soglia di povertà e così via in una spirale una volta tanto positiva. Due cose allora, purtroppo siamo in campagna elettorale quindi l'uso dei dati è tecnicamente la disoccupazione nel Lazio è leggermente scesa secondo l'Istat ma per carità non risolve le cose, è che chiaramente siamo in un momento in cui tutto viene tirato da una parte e dall'altra e non è che voglia essere una difesa di politiche realizzate, è un dato. Io parlavo di disoccupazione giovanile comunque. Esatto, quella complessiva è leggermente scesa ma insomma la domanda più importante è tutta questa, soprattutto questo impegno sul lavoro così grande costa. Da dove viene, da dove si tirano fuori tutti questi soldi? Vorrei darle prima un dato rispetto a quello che diceva prima della disoccupazione perché noi abbiamo avuto in questi anni una contrazione del 6% del prodotto interno lordo regionale e a fronte di, da quando è iniziata la crisi economica, a fronte di un recupero di un 1% del prodotto interno lordo regionale, quindi siamo a meno 5% rispetto a quando è iniziata la cosa. A fronte di una perdita di prodotto interno lordo abbiamo un saldo positivo rispetto a imprese che hanno aperto, cioè sono più quelle che hanno aperto rispetto a quelle che hanno chiuso, siamo in saldo positivo. Ma che cosa significa questo dato che è un dato della Camera di Commercio quindi non è un dato nostro? Significa che molte più persone sono diventate imprenditori di se stessi, hanno aperto un'attività apprenditoriale, ma per delle attività a bassissimo valore aggiunto, quindi che danno pochissimo reddito. La sfida è proprio dare a queste persone una possibilità di formazione che vada verso quel mercato di lavoro che sta cambiando, dove le professionalità più basse saranno sostituite dalla robotica piuttosto che dall'intelligenza artificiale e dove invece le persone faranno l'estro creativo, il valore aggiunto della mano d'opera sarà il fattore competitivo del futuro. Però per dire, naturalmente bisogna anche capire qual è la platea per esempio per il reddito di cittadinanza a cui ci si rivolge, perché anche lì basta cambiare di qualche decina di migliaia di persone e il saldo di numero di miliardi che serve cresce. Noi abbiamo preso i dati dell'Istat sulle famiglie in povertà assoluta e le famiglie in povertà relativa, che sono cresciute in questi ultimi anni purtroppo e noi al momento abbiamo quasi 500 mila nostri concittadini laziali che sono al di sotto della soglia di povertà tra assoluta e relativa. Assoluta e relativa significa che tu hai o zero reddito o hai una parte di reddito che ti deve essere integrata per arrivare a quei 780 euro che è questa soglia dell'Istat. Abbiamo considerato in questa platea che si tratta più o meno di 1 miliardo e 800 euro per la regione Lazio. Quindi andremo ovviamente effettuando tutti quelli che sono quei risparmi sulla spesa sanitaria che non è i tagli indifferenziato che dicevo prima, ma risparmi effettivamente su quelli che sono soprattutto le tariffe delle convenzioni col sistema privato a trovare le risorse. Ma poi io le dico, in 5 anni di Parlamento e qui l'attività parlamentare mi aiuta, ho visto trovare in 14 minuti di consiglio dei ministri 20 miliardi per le 4 banche venete, ho visto trovare altri 4 miliardi e mezzo di euro per MPS, ho visto trovare 12 miliardi per Banca d'Italia e così via. Quindi noi preferiamo avere, sono numeri più grandi, però che cosa significa? Che quando una forza politica ha la volontà politica di trovare le risorse economiche, le trova e le destina. Poi c'è chi le destina alle banche, noi preferiamo destinarli ai cittadini, soprattutto a quei cittadini che sono in condizioni di povertà, ma anche per quel discorso che le facevo prima, di innestare una spirale economica positiva che porti quelle persone al di fuori della soglia di povertà perché avremmo aumentato la domanda interna di beni e servizi e quindi avremmo permesso alle imprese di mantenersi in vita e di assumere persone. Abbiamo parlato di giovani, di meno giovani, parliamo anche di donne, di mamme, lei ha due figlie, quindi lei ha spiegato che il discorso famiglia è uno dei punti a cui va, che le sta molto a cuore, quali sono le misure per la famiglia del Lazio? Abbiamo nel programma, è in animo di introdurre quello che è il quoziente familiare, cioè una serie di misure, di sgravi fiscali per le famiglie monoreddito con figli a carico. Poi per quanto riguarda le mamme, con una sinergia con le mamme lavoratrici, in sinergia con il programma nazionale, prevediamo di dare un sostegno di 150 euro al mese per i primi tre anni di vita del bambino proprio alle mamme lavoratrici per aiutarle nell'affrontare le spese relative anche e soprattutto ovviamente al nido perché se torni a lavorare il bambino tendenzialmente lo lasci al nido. E in più tutta una serie di sgravi fiscali per quelle imprese che investono nell'assunzione di una neomamma. Ha letto anche qualcosa sulle adozioni? Vorremmo fare un centro unico regionale che accompagni le famiglie proprio in tutto il percorso dalla fase iniziale in cui una famiglia si propone di adottare un bambino, averlo in affidamento fino a tutta la parte successiva, proprio per andare a semplificare e snellire anche tutti quei giri spesso e volentieri lunghissimi e complicatissimi che le famiglie che vogliono solo accogliere, avere la possibilità di accogliere un bambino nel loro nucleo si trovano purtroppo a dover affrontare. Questo qui è uno dei temi tipici, quello della famiglia, che divide trasversalmente di solito gli schieramenti politici, l'avevo visto anche in Parlamento, i partiti si spezzano, si rompono al loro interno, si creano altri schieramenti. E proprio da questo punto di vista volevo tornare a una domanda un po' più generale che era questa. Una cosa che ha detto, mai ha colpito, ha detto Parisi, il candidato Parisi, dice l'elettorato che ha votato Raggi è stato un elettorato, scusi, un elettorato che ha votato Raggi e quindi quello che si pensa vada a votare per lei, è un elettorato di centrodestra a cui non è stata data l'opportunità di votare un candidato di centrodestra. Nel senso che il vostro bacino sarebbe più quello nel Lazio del centrodestra che non una competizione con il centro-sinistra. Ha detto Parisi. Ah beh, se l'ha detto Parisi. Tra Milano e Roma ogni tanto tutta st'alta velocità deve confondere un po' le idee. No, noi veniamo assimilati a delle ideologie che non esistono più purtroppo nella vita, con il massimo rispetto che uno possa avere per delle idee di chi la pensa in un modo e chi la pensa in un altro, chi si ispira a dei valori di sinistra e chi ha dei valori di destra. Veniamo classificati in un modo o nell'altro a seconda di quello che è l'argomento che tocchiamo. Allora le faccio un esempio. Io l'altro giorno parlavo dell'accoglienza ai migranti piuttosto che l'accoglienza ai turisti. Il giorno dopo ovviamente alti si sono alzati là e della sinistra dicendo ah fascista, leghista eccetera eccetera. Poi parliamo di reddito e di cittadinanza come parlavamo prima oppure del reddito energetico che è la proposta che ho spiegato oggi per la Regione Lazio ma che è anche un tema nazionale. Allora diventiamo i compagni da parte di quelli della destra. Penso che anche là la differenza è che noi viviamo la realtà, vediamo i problemi e cerchiamo di trovare delle soluzioni di buon senso senza andare a vedere la coloritura politica convenzionale. Mentre abbiamo visto in questi anni gli altri hanno fatto delle battaglie di religione su dei temi nei talk show o sui giornali e poi quando si trattava di votare votavano ognuna. Faccio un esempio, per esempio sul tema dei Rom, tanto per fare un esempio, tutta la parte della destra ci ha fatto per anni delle battaglie di religione. Poi vai a vedere il momento in cui è stato ministro dell'interno Roberto Maroni per i campi Rom di Roma sono stati estanziati 60 milioni di Euro negli anni di soldi dei cittadini italiani, quelli che volevano passare con le ruspe. Allora pure lì noi diciamo, andiamo a fare un discorso del genere, preso atto che il 25% delle famiglie Rom nel territorio nazionale, sono più o meno 180 mila persone, risiede nel Lazio, nei campi del Lazio la maggior parte non sono censiti, andiamo lì a fare un'operazione di censimento per vedere effettivamente che le persone che stiano lì abbiano diritto per un discorso di condizioni economiche. Una volta che hai tolto tutte le persone che non c'entrano per un discorso di ricchezza personale e non hanno nessun titolo per rimanere lì, andiamo verso quel percorso di chiusura dei campi Rom che l'Europa ci ha chiesto e per la quale esistono dei fondi europei appositamente stanziati, che se non vengono utilizzati e Roma su questo sta lavorando in tal senso e ha iniziato un percorso il Comune di Roma, ritornano in Europa, quindi non è che vanno per altre cose per i cittadini italiani, però pure se dici questo inizi a parlare. Sì, lei si lamenta, però è chiaro che in una situazione in cui i comuni non accolgono il numero minimo di immigrati che gli è stato assegnato, dire più turisti meno migranti, insomma un segnale preciso, non è che si può… Ma che cos'è l'accoglienza? È andare a mettere queste persone in questi megacentri da 300-400 persone quando ne potrebbero ospitare 50-100, andare a far pagare 35 euro al giorno al contribuente, a persona, al contribuente italiano e poi questi disperati che fuggono o da scenari di guerra o da miseria, scenari di miseria e povertà nel loro paese, abbandonarli in questa specie di ghetti, quindi abbandonando loro e non dandogli accoglienza così e creando una situazione di insicurezza sul territorio con paesi che si stanno spopolando, borghi storici che magari si stanno spopolando perché ci sono queste potenziali bombe che neanche tanto potenziali perché poi a volte si creano anche i fatti che purtroppo leggiamo sempre più spesso in cronaca, in cronaca nera e questa è la gestione dell'accoglienza, allora noi abbiamo detto non è un'accoglienza così pur che sia perché poi questa accoglienza ha fatto comodo al centro-sinistra e al sistema delle cooperative sue finanziatrici che hanno gestito i soldi che venivano stanziati dal governo. Io ho fatto comodo al centro-sinistra perché ci ha fatto le sue campagne elettorali. Giusto per sapere, ma lei è d'accordo o no? Lei è contraria alla divisione per quote per comuni, gli sprare eccetera? Io vorrei la divisione, noi abbiamo presentato al Parlamento una mozione che è stata votata all'unanimità a dicembre 2014, io vorrei la divisione per quote per nazioni, così come abbiamo detto noi, abbiamo detto porti d'imbarco dove esistono dei corridoi umanitari, dove le persone che vengono riconosciute come aventi diritto alla protezione internazionale secondo quelli che sono i trattati. Quindi diminuire la quota che tocca l'Italia, complessivamente. Assolutamente perché vengono identificati prima, quindi visto che effettivamente sono richiedenti asilo aventi diritto e vengono indirizzati verso i paesi di destinazione che sono loro stessi a volere. Sono loro stessi a volere perché si ricongiungono a quelle che sono le comunità di provenienza, perché noi li accogliamo con questo sistema in Italia e li teniamo in ostaggio in questo paese perché ci facciamo come sistema paese i soldi sulla loro pelle, creando insicurezza ai cittadini italiani e deprimendo piccole economie locali che si trovano queste bombe da 400-500 persone su comuni magari di poche anime e dove le persone non trovano più da poter vendere casa perché ovviamente vendi casa ma accanto c'hai un centro da 500 persone con queste persone tutto il giorno abbandonate che magari bighellonano in giro e iniziano a creare anche una sensazione di insicurezza, magari le attività economiche chiudono. Chiarissimo. Questa è la realtà. Allora ci sono ancora altri temi da affrontare, il nostro tempo sta andando avanti velocemente, ricordiamo per chi ci ascolta sulla radio che siamo in diretta con Roberta Lombardi, candidato al Movimento 5 Stelle, parliamo di rifiuti, la vostra posizione? La nostra posizione è innanzitutto anche lì andare a chiudere e aggiornandolo un piano rifiuti che è fermo al 2012, quando il piano rifiuti regionale si basava sulla discarica di Malagrotta dove andavano conferiti, quindi buttati fondamentalmente perché la discarica è una buca, dove andavano buttati i rifiuti di Roma e di alcuni comuni limitrofi, quindi diciamo più del 50% dei rifiuti di tutta la regione. Malagrotta è stata chiusa dall'Unione Europea fortunatamente nel 2012, dal 2012 a oggi, quindi in 5 anni di governo Zingaretti della regione, non si è avuto l'aggiornamento del piano, quindi un comune come Roma che si sta, che si è avviato, non che si sta, che si è avviato perché è partito con una raccolta a porta puntuale, quindi si è avviato verso una gestione del rifiuto come risorse, non più come un problema da risolvere buttando il sacchetto nella buca, non ha una rispondenza da parte della regione perché non gli dice come dovrà trattare i rifiuti che va differenziando, quindi che tipo di impiantistica il comune potrà richiedere in autorizzazione alla regione, quindi se io sono la regione Lazio Movimento 5 Stelle e vado verso una gestione del rifiuto come risorsa, verso quella che noi abbiamo chiamato zero rifiuti, autorizzeremo solo impianti che sono o fabbriche di materiali, quindi non più discariche, non più inceneritori, quindi nessun impatto sulla salute umana e piccoli impianti di compostaggio di comunità per quelli che sono i trattamenti dei rifiuti organici che diventano pure lì una di nuova risorsa, ovvero compost. Trasporti? Trasporti abbiamo, vogliamo fortemente potenziare tutta la parte del trasporto su ferro, abbiamo alcuni tratti di ferrovie che sono state dismesse negli anni o sono state impoverite di servizi, quindi andremo a fare un lavoro sia in termini di infrastrutture, sia in termini di controllo del rispetto dei termini del contratto di servizio tra Trenitalia e la regione Lazio, sia in termini di programmazione del prossimo contratto di servizio, proprio perché nel frattempo la regione è cambiata, la demografia è variata anche a livello di distribuzione delle persone sul territorio regionale e quindi dobbiamo tenere conto di queste mutate esigenze. In più prevediamo tutto un sistema di manutenzione stradale, ordinaria e straordinaria, che è mancata in questi anni, è mancata la programmazione delle gare, quindi l'abbassimento dei costi e la possibilità per le imprese di entrare a partecipare a quelli che sono i bandi pubblici. E poi abbiamo Cotral, che ovviamente... Ecco Cotral. Cotral rimane pubblico. Rimane pubblico. Rimane pubblico. Però allo Stato Cotral risulta risanato. Con 8 milioni di chilometri annui in meno di percorrenza, con alcuni paesi della nostra regione che hanno una sola corsa al giorno e che quindi si trovano in un oggettivo stato di isolamento e con un contratto con gli autisti della Cotral che ha visto aumentare la loro produttività attraverso l'aumento della velocità media di percorrenza e l'aumento delle minuti intorno, con ovviamente anche delle possibili ricadute, anche se ovviamente non è mai assicurabile sulla sicurezza. Quindi va mantenuto ma gestito diversamente. Esattamente. E anche lì c'è tutto un sistema di revisione della spesa che va fatto proprio per liberare i risorsi. La prima strada in regione su cui vuole intervenire è la Pontina, ne cito una, non lo so. La Pontina è un'infrastruttura che è strategica per quanto riguarda l'avvicinamento a Roma di tutto l'agropontino e quindi tutto il settore agroalimentare che nella provincia di Latina ovviamente è molto presente e molto ricco di varietà. Noi vogliamo allargare la strada Pontina e metterla in sicurezza e nel frattempo prevedere una metropolitana leggera da affiancare alla Pontina nel lato più verso, non verso mare ma verso interno, che faccia quel servizio di metropolitana proprio per quello che dicevamo prima, le mutate condizioni demografiche. Tra l'altro si parla molto di autostrada Roma-Latina anziché potenziamento della Pontina. Lei è contrario. No, è folle il progetto perché finisce nello stesso punto e quindi io posso aver viaggiato a 120 km orari sull'autostrada ma sempre nel raccordo vado a finire, quindi bisogna cambiare il tipo di mobilità. Abbiamo ancora un minuto, intanto un suo hobby per conoscerla meglio. Le immersioni e la lettura, anche se purtroppo... Ce la fa lo stesso. Leggo sott'acqua, no? Ultimamente faccio poco dell'uno e dell'altro, però sono hobby che tornerò a coltivare. Un appello finale, perché votarla? Penso che dopo tanti anni in cui le cose siano rimaste immobili, le persone debbano poter scegliere se vogliono effettivamente un cambiamento e quindi io non faccio un appello al voto perché penso che i voti non vadano richiesti ma vadano meritati e quindi chiedo agli cittadini laziari di meritare una chance di cambiamento che è nel Movimento 5 Stelle. Grazie, noi siamo arrivati alla fine. Grazie a Roberta Lombardi, candidata del Movimento 5 Stelle, alla presidenza della Regione Lazio, grazie a Giorgio Sabba, vice direttore della TG3. Domani appuntamento sempre alla stessa ora con Nicola Zingaretti, presidente oscente, candidato del centro-sinistra e sostenuto da 6 liste. Grazie per averci seguito e arrivederci. Grazie a tutti.